Shalom, Shalom, Shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Onipotente Yahawa nel nome di suo figlio, il nostro re salvatore e rendentore Yahawa Shai e nel nome dello Spirito Santo Rukha Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Gretz Mewstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura 100% verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, Israele, sparsi nei quattro punti della terra. A coloro che stanno lavorando nella vinia, che è questa terra, facendo sì che questa verità possa arrivare dappettuto. E anche a coloro che con sincerità cercano questa verità, Shalom. Questa lezione sarà basata su un paio di parabole. Prima, la lezione che ho fatto fuori, parlavo e lo Spirito mi aveva fatto dire un paio di cose che poi non ho concluso. perché mentre insegnavo c'era gente che passava e mi era venuto in mente dire è sempre così quando sei per le strade che parli una roba di questo genere. Non mi ricordo perfettamente quello che volevo dire, ma ora mi è venuto proprio quello che avrei voluto dire, ma non ho condiviso. Dunque, questa foto che vedete qui è un foto classico degli insegnanti, degli anziani della Great Mewstone. Ok, questa è in America, sono gli anziani. Questo è l'anziano Manatazak. Loro sono, non lo so quante volte a settimana, penso più di 3-4 volte a settimana. Sono sempre fuori ad insegnare e notate che mentre insegnano passano tante persone, alcuni fanno delle domande, vengono risposte e non digeriscono la cosa così. Alcuni si fermano per criticare, alcuni invece si fermano e accettano questa verità con felicità. Ora andiamo velocemente a leggere. Leggiamo prima questa parabola che si trova nel libro di Matteo, capitolo 22. Queste sono le parole di Yahawaschai. E Yahawaschai rispose e parlò loro di nuovo con parabole e disse il regno dei cieli è simile a un certo re che ha sposato suo figlio. Questo re sta parlando dell'onipotente padre Yahawaschai e il figlio è Yahawaschai, colui che il mondo chiama con ignoranza Gesù. E mandò i suoi servi a chiamare coloro che erano stati inviati alle nozze e non sarebbero venuti. Questi erano i profetti che sono stati chiamati a svegliare i figli di Israele. Ok? Ma come sapete sempre dalla storia, se guardate dal Vecchio Testamento, molti dei profetti sono stati uccisi. i profetti comunque non venivano accettati. Ok? E non sarebbero venuti. Di nuovo mandò altri servi dicendo Dì a loro che sono stati inviati Ecco, ho preparato la mia cena i miei bue e i miei ingrassi sono uccisi e ogni cosa è pronta. Vieni alle nozze ma quelli di esso ma quelli di esso e presero strade chi ha il proprio campo chi ha i propri affari. Ok? E il rimanente prese i suoi servi li supplicò con disprezzo e li uccise. Questo è il classico di quello che sta succedendo. Ok? Come dicevo prima molti profetti sono stati uccisi. Ok? I figli di Israele li andavano bene a questo regno hanno gli occhi acceccati dalle ricchezze di questo regno dalle strade delle altre nazioni le strade di perdizione che non fa altro che gratificare la carne ma lo spirito muore ed è quello che si sta parlando qui. Ok? Ma quando il re udì ciò si adirò e mandò le sue truppe ok? Uccise quegli assassini e diede alla fiamma la loro città. Allora disse ai suoi servi le nozze sono pronte ma quelli che erano stati invitati non erano degni. Ok? Allora come abbiamo visto il padre ha causato molte distruzioni alla casa di Yasharala nel passato ok? Quando i profetti li chiamano li cerca di svegliarli loro hanno gli occhi via e cosa fa il padre? Il padre manda eserciti eserciti strani che non conoscono un esempio sono gli assiri un altro esempio i babilonesi li hanno preso e dispersi in schiavitù e l'ultimo che è successo è stato attraverso i romani nel 70 dopo la morte di Yahawashai il padre ha guidato questo esercito hanno massacrato molti molti hanno disperso molti e molti sono dispersi sono andati in Europa tanti sono scappati nell'Africa precisamente nell'Ovest Africa ma sono sparsi in tutta l'Africa ma maggior numero è nell'Ovest Africa ed è quello che questa parabola sta dicendo ok e ma quando il re udì ciò si adirà e mandò le sue truppe uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città allora disse ai suoi servi le nozze sono pronte ma quelli che erano stati invitati non erano degni ok andate dunque per le autostrade e quanti ne troverete fate un'offerta per il matrimonio e qui arriviamo noi ok il padre di nuovo sta radunando il suo popolo ok e come sapete questi sono insegnanti questi sono anziani anche come noi come fratello Yasharala che predica nelle strade in italiano che ho postato il suo video come me siamo stati chiamati ora a fare questo lavoro allora quei servi uscirono per le strade e radorarono tutti quelli che trovano cattivi e buoni e le nozze furono fornite di invitati ok noi andiamo per le strade predichiamo questa verità chiamiamo tanti ok tanti accettano questa verità con felicità poi appena vedono i sacrifici che devono fare per questa verità cominciano a tirarsi dietro tanti prendono frammenti di questa verità e lo miscolano con quello che credono che non lo rende più pura ok e quando il re entrò per vedere gli invitati vide un uomo che non indossava l'abito nuziale e gli disse amico come sei entrato qui senza l'abito nuziale ed era senza parole allora il re ordinò i servi legatelo mani e piedi e lo porta via e gettatelo e gettato lui nelle tenebre ci sarà pianto e stridore di denti e questo è perché molti questa questa verità li prende in una maniera ok come qua sta proprio parlando di altri gruppi degli ebrei israeliti soprattutto quelli che non usano i nomi dei padri che usano ancora i nomi mondani che chiamano ancora il suo figlio Cristo Gesù ok questi non hanno l'abito nuziale l'abito nuziale rappresenta la completezza della verità soprattutto il nome del padre il nome di suo figlio ok perché molti sono chiamati ma pochi sono scelti torniamo sempre molti sono chiamati pochi sono scelti ora andiamo a leggere un'altra parabola molto simile nel libro di Luca capitolo 14 inizio dal versetto 16 Yahawashai gli disse un uomo preparò una gran cena e invitò molti e all'ora della cena mandò i suoi servo a dire invitati venite perché è già pronto tutti insieme cominciarono a scusarsi ok il primo gli disse ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere ti prego di scusarmi un altro disse ho comprato cinque paio di buoi e vado a provarli ti prego di scusarmi un altro disse ho preso moglie e perciò non posso venire e questo è un classico che sta succedendo tanti sentono questa verità perché sono chiamati maggior parte sono poche persone che andranno in internet e diranno che non sono mai una volta non hanno mai avuto la possibilità di vedere un video degli ebrei israeliti in qualche maniera anche se non vedi quelli della Great Muses non vedrai di un altro gruppo questo è l'invito ok ma li guardano per un po' ma tutte le loro speranze mondane li impedisce cominciano a dare delle scuse o ho una carriera da seguire o un lavoro da seguire questo l'altro e diverse scuse e sono queste scuse che vedete qui infatti le scritture ci fanno sentire sapere che adesso non mi viene in mente che versetto che dice sto parafrasando coloro che proteggono la loro propria vita lo perderanno e coloro che perdono la vita lo troveranno perché questa verità vuol dire sacrificio molare tante cose mondane soprattutto i tuoi sogni di un futuro splendido in questo regno deve essere la prima cosa che deve andare via la tua speranza la nostra speranza deve essere di un regno nuovo dove regnerà il nostro salvatore Yahweh in rettitudine perciò se non hai il tuo occhio singolo a questo regno darai sempre scuse come stanno dando scuse questi ora vediamo cosa succede leggo di nuovo le scuse il primo gli disse ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere ti prego di scusarmi un altro disse ho comprato cinque paio di bue e vado a provarli ti prego di scusarmi un altro dice ho preso moglie perciò non posso venire servo tornò e riferì queste cose al suo signore allora i padroni di casa si adierò e disse al suo servo va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri storpi ciechi e zoppi poi il servo disse signore ciò che hai comandato è stato fatto e c'è ancora posto ok infatti come vedete la foto e dei video che ho postato prima video che postiamo che siamo per le strade a insegnare ok chiamiamo la gente chiamiamo chiamiamo molti sono entrati molti sono ancora lì ok per concludere poi il servo disse signore ciò che hai comandato è stato fatto c'è ancora posto il signore disse al servo vai fuori per le strade lungo le siepi e constringili a entrare affinché la mia casa sia piena perché io vi dico che nessuno di quei uomini che entrano che erano stati invitati assaggerà la mia cena ora molta gente andava con lui ed è rivolto verso di loro disse sì qui è la fine della parabola perciò molti sono chiamati pochi sono i scelti dovete mollare tutte le vostre cose e seguire il padre e il suo figlio Yahawashai ok mollate tutti guarda questa verità infatti non è per tutti per pochi e quei pochi sono coraggiosi detto questo spero che siete stati edificati e lascio tutto questo nel sacro nome del padre Yahaw e nel nome del suo figlio Yahawashai il nostro salvatore e nel nome dello spirito santo lo spirito di verità Rukah Kodash doppio onore agli apostoli e anziani della Grecia mi stongi e mespi avermi insegnato questa verità pace e saluti agli eletti della casa Yahsharala alla prossima Shalom Shalom Grazie a tutti